Dopo cinque serate di dura selezione, venerdì prossimo, 19 febbraio, andrà in scena l'ultimo atto di shaker e padelle a Fornaci di Barga, dove le sei coppie finaliste si contenderanno lo scettro della seconda edizione del concorso, che vede in abbinamento un barman e uno chef di cucina. Le cinque coppie vincitrici e la miglior seconda delle eliminatorie accederanno alla finale del concorso cui hanno partecipato concorrenti provenienti da mezza Toscana. La sfida, come tradizione, consiste nel preparare un piatto in abbinamento ad un cocktail in 20 minuti, per poi essere giudicati da una giuria qualificata composta da quattro esperti. Nato dalla Izeria di una serata fra amici, oggi shaker e padelle è diventato un appuntamento fisso. Sono state gare veramente combattute, devo essere sincero, mi ha fatto veramente piacere e in finale saranno veramente dei pezzi grossi. E questo penso che darà lustro a questo piccolo, direi piccolo, concorso che ci siamo inventati e sta vedendo veramente un grosso successo. Le coppie finaliste del 19 febbraio saranno Nilo Riani e Nicola Pellegrineschi, Stefano Cosimini e Martina Palagi, Stefano Mantica e Stefano Vincenti, Danilo Bertoncini e Walter Borelli, Federico e Chiara Filippelli, Emanuele Magri e Lara Zanella. Grazie a tutti.